Dopo gli eventi inaspettati di Elie Nessel, il sito ufficiale della WWE ha listato Tucker tra gli atleti in forza a SmackDown, malgrado con il recente draft sia stato selezionato da Raw. Vi ricorderete anche come Otis venisse preso in giro da John Morrison e da The Miz sul fatto che avesse perso sia la sua fidanzata che il suo miglior amico rimanendo da solo nello show blu. Al momento di registrare questo video non è chiaro se si tratti di un errore o di una decisione definitiva, con la seconda ipotesi comunque altamente possibile, visto che all'orizzonte si staglia un per me inevitabile faida tra i due ex componenti degli Heavy Machinery. In fase di analisi, se vi va qui sotto nei commenti, potete discutere anche di quale sarà, secondo voi, il futuro di Otis che era in cima al paradiso qualche mese fa, con una piacevole storyline con Mandy Rose e l'inaspettata anche vittoria della valigetta del Money in the Bank che ora invece apparentemente sembra essere stato ricacciato nel mid-carding con scarse probabilità di guadagnare nel breve periodo delle posizioni verso l'alto delle graduatorie. Fatemelo sapere, sono curioso di leggere i vostri commenti.